Una visita aristocratica ad Alcamo, quella del barone, barone Franco Cazio, ben arrivato ad Alcamo, prima volta che da queste parti, purtroppo sì, le sarebbe piaciuto venire altre volte in questo senso, giusto? Ho conosciuto un paese molto bello, mare, bellissimo, sono stato a Palermo, ma qui, ma non è il papà di Marco, grazie, piacere mio, piacere mio. Cosa ricorda del viaggio di ritorno in aereo con il presidente Pertini? Ha raccontato anche dei suoi dialoghi con il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e della partita a scopone scientifico giocata con lui il 12 luglio 1982 in aereo di ritorno dalla Spagna, dove gli azzurri avevano conquistato nell'indimenticata serata precedente la Coppa del Mondo di Calcio. Ha raccontato l'umanità dell'avvocato Gianni Agnelli e la propria esperienza di meridionale migrato nella Torino di oltre 40 anni fa. È anche evidenziato il proprio ruolo importante di scopritore di talenti, in particolare avendo fatto approdare alla Juventus un giovanissimo Alessandro Del Piero. Con questi e altri aneddoti, Franco Cazio, il barone, come simpaticamente viene chiamato da quando negli anni 70 giocava a calcio da grande campione, ha piacevolmente animato l'evento per il quale è stato ospite allo Juventus Club Doc Alcamo Carlo Messina. La serata si è poi sviluppata con una cena in un nuovo ristorante Hotel Castellammare del Golfo. Cazio ha infatti presentato il suo libro Vincere è l'unica cosa che conta, bianconero da una vita, con prefazione a cura di Italo Cucci. Ad accoglierlo il presidente del club juventino alcamese Marco Messina, con altri rappresentanti di club di tifosi bianconeri, con interventi anche dal delegato provinciale della FIGC, LND, Toti Hernandez e di Leonardo Labbita per la presentazione del libro. Poi mano a mano i sogni a botta si aprirano. Noi siamo, anche se oggi, prontando insieme, ci ha messo veramente al nostro agio, uno di noi veramente, sono emozionato ovviamente. Come me, come tutti questi fratelli bianconeri che ci chiamano all'interlottamento, gli sono stati presenti chi ha lasciato ora voglio la filantata, staggire per il lavoro, per venire già consaputo, un'amaggio e, a nome del presidente di tutto il club, ringrazio tutti coloro che sono presenti e tutti coloro che ci hanno dato l'attestato di stima e di affetto, anche se non sono voluti essere presenti e non hanno potuto partecipare. Ringrazio il signor Messina e la signora Miranda, Cagliere Miranda, il nostro presidente è dedicato a un carissimo amico mio e i genitori ci hanno dato il permesso di poterlo dedicare a lui e sono trascorsi proprio 11 anni, quindi sono onorato di averli tra noi e anche emozionati. Mi fermo qua, è forza Juve, è forza il valore. Ho avuto il piacere di essere a cena con Italo Gucci proprio lunedì sera, che era in partenza proprio per casa dopo le tristi vicende di Pantelleria. Abbiamo trascorso una tradizione, si parlava proprio del libro, gli anticipavo che sarei stato qui con voi, quindi grazie, grazie Marco, grazie a tutto il direttivo, a Gaspare, vorrei solo fare un primo inciso così entriamo anche nel merito del testo. Il titolo è straordinario, si rifà con una assioma del Presidentissimo Boniverti e solo apparentemente fa pugni con quelli che sono i concetti che la federazione nel calcio di base cerca di divulgare come valori, dove si dice, si insegna ai bambini che invece bisogna partecipare, sono più importanti il valore, piuttosto che il gesto tecnico, agli operatori. Io credo che l'interpretazione corretta che va data a questo titolo è invece la voglia, la determinazione di arrivare, cosa che è pregnante in casa Juventus, è il concetto che il Presidentissimo Boniverti. E' un concetto che si può associare alla vita di tutti i giorni tranquillamente, oggi più che mai, che forse è anche più difficile, come nel calcio tra i professionisti, tra i direttanti, ma nella vita di ogni giorno dobbiamo lottare per arrivare agli obiettivi ed è questo quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Grazie di essere qui anche da parte di me. Grazie per l'invito, perciò sono tutti i volentieri, sono qui con entusiasmo, sicuramente per fare anche l'elogio a questa squadra attuale, tra la quale vince la squadra 5 anni di fila in campionato, insomma, chapeau a questi ragazzi, non è facile, io l'ho vinto per 2 anni di fila e l'erogio a essere concentrato non era facile, però vincere 5 anni di fila in campionato e bisogna dirgli solamente bravi perché non solo i giocatori, la società, l'organizzazione, il progetto serio e quindi pure sempre stata l'alimento. Sul fatto di Marco che diceva di Agnelli, io dico che lui andava avanti per i tempi, arrivava prima perché nel periodo nostro, praticamente anni 70-80, la Juve era formata un po' più di altro da giocatori di vari regioni, ma perché? Perché nella Fiat c'erano tanti regionali, lui arrivava con quella contilligenza superiore alla media che aveva e divideva le squadre, la nostra squadra c'erano tanti regionali, poi arrivato anche a Zoff, Pilonia, Zoff, Friulano, io Pugliese, Puglieldo Sardo, Anastasi di Catania, Furi, Rignano, insomma, varie regioni, ma perché? Perché noi, alla fine ogni tanto, si chiamava Mirafiori, perché lui era, sai, imprenditore. E ogni tanto andava a Mirafiori a trovare anche queste persone, per far felici, contenti, di questi periodi, c'erano anche le famose ballette, no? Ballette, a te la mutica, che avevano costruito dei casi meridionali, comunque la Fiat, perché doveva andare a vivere lì. Ecco perché l'intelligenza dell'avvocato era, arrivava sempre più a deviare, e la risposta di Dior Marco, che, poi, insomma, la Juve è uno stile di vita, non solo in campo, ma fuori. Cosa ricorda del viaggio di ritorno in aereo con il Presidente Pertini? La famosa scopana scelta, la famosa scopana scelta, non è quello, il problema è che noi l'avremmo accoggiato, prima di partire siamo andati da lui a salutarlo, ma... Come confedurlo? Beh, qualcosa di dubbio, ma io non dovevo passare, i tre mondiali, ho visto due papi, ho visto diversi vari Presidenti, quindi... In Spagna non c'era ancora, non c'era governo, quindi c'era Spadolini, ma... che faceva, nel governo non c'era, non c'era solamente il Presidente Pertini, ma non c'era più di consiglio, non c'era... Vi ricordate, Spadolini che rappresentava, infatti Spadolini è venuto prima lui, poi nel momento in cui siamo andati in finale, l'altro però non ha chiamato, mi ha detto torno a casa perché arrivo io, però lui, lui è arrivato lì, ci ha visto, come solito, io ero ex giuventino, ma nel giuventino giovavamo, eravamo le partite, facevamo dei piccoli tornei di scopone scettivi, pubblici, 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 pubblici con la 3.7, quindi... O l'Atari, perché non c'era, oggi aveva dell'iPad, aveva dell'iPhone, aveva dei giochetti vari, i ragazzi di oggi sono diversi da noi nell'opera, quindi l'opera era con l'Atari, mi ricordo, o l'Atari, oppure facevamo questi torni, lui ci ha visto giocare, mi piacerebbe fare una partita solo che non aveva tempo, perché i vari colleghi anni che lei doveva fare una stampa, non avrei tempo per poterla fare, ho detto però, sai, se capita, io devo andare nella vigilia della partita, a trovarci, tanto per cambiare, eravamo lì così, mi piacerebbe, il presidente, non si sa mai, vediamo domani come va, è finita che abbiamo vinto la partita, alla fine della partita, lui a Berzo ci ha detto, domani vi voglio tutti sull'aeropresidenziale, solo noi, poi è arrivato, è la frae che c'è a Carrano, quindi sono lui piacere l'operto, lui è la sua squadra, non vuole parte, guardati su non ci stiamo messi a fare, lui doveva fare, sono passi di fotografi, doveva fare la televisione privata, cioè non privata, tutte le sue cose, impegni, impegni del presidente della Repubblica, però non vedeva allora, perché lui vedeva che ci guardava, non vedeva allora di sbolognare e di venire da noi, abbiamo finito, interviste varie, con Pia Bella, e lui dice, eccomi qua, pronto, vuoi fare la partita? E lui dice, io gioco con il mio capitale, io ho detto, vabbè presidente, io gioco con il mio GT, tutti e tre negati, devo dire, non erano dei fenomeni, comunque va benissimo lo stesso, ci mettiamo lì a giocare, siamo lì un po' più o meno, punto avanti noi, giocare a scopore scientifico, non so se tanti, a dici carte, devi ricordare i pari, i dispari, tutte quelle carte che sono uscite, però mancavano quattro mani alla fine, io più o meno ero quello che è più preparato, diciamo, mi ricordavo un po' quello che aveva con il mano, praticamente, c'erano i sette a giro, loro mazzieri, io come mio amico Veccio, un belasolio, un'altra parte, io ho detto, ma te ho fatto se mi dice, sei sempre bello il mano, non è per finire la riflessione, no, dico, perché manzieri loro, tu quando rimetti carta in giro, tutti pari, dico, abbiamo perso, mi viene in mente la mia estrosità, per il caso, estrosità, allora, piglio sto sette, ho tre, e lo butto via, dino sulla mia destra, essendo manziere, deve prenderlo, perché è tutto pari, deve prenderlo, anche lui, deve essere obbligato, lo fa passare, beh, c'è il sette a bello, abbiamo il sette a bello premiera, un segno, si arriva al segno, finisce la partita, no, all'ultima mano, noi abbiamo le due carte normali, e rimangono, il sette a mano di Zoff e il sette a mano del Presidente, quando il Presidente si accorge che lui c'è il sette, lui pensava che ce l'avesse, era zotto, ce l'avesse io l'altro sette, perché, è perché io, diranno fuori, pensavo che ce l'avesse io, dice, ma come, c'è lei l'altro sette, e non ha preso il sette di caso, dice, ma il Presidente, non deve prenderlo, siamo mazzia di noi, e via l'altra, una paralizzata, beh, sì, no, una paralizzata, perché poi sai, lui, poi gli ha fatto una manetta, però sai, noi atterriamo, siamo lì su, sul Cialbino, arriva il comandante, arriviamo su, e lui, cosa dice, ragazzi, c'è un milione di persone che ci aspettano, no, e stavamo volando passo, e lui gli dice al comandante, non a te, dice, faccia l'altro giro di ciotto, e poi c'è un po' di marino, beh, mi poteva permettere, se no lui, come va andato, poi siamo arrivati, siamo andati lì al bazzolino, abbiamo messo qui a mangiare, perché poi il tavolo a forma di cose di cavallo, lo sai, allora c'era, lui doveva sentersi dall'altuare, poi c'erano i vari onorevoli, i ministri, lui ha arrivato proprio, praticamente, seduto un po in mezzo allora ha detto ha chiamato Zoff e ha chiamato il nostro cittino il bello allora gli fa la mia destra la mia sinistra ragazzi tutti qua ringraziamo i ragazzi per le rivoluzioni che ci hanno dato e buon appetito a tutti lui era questo perché era il presidente di tutti il presidente degli italiani poi sai l'altro episodio più importante che per me è stata veramente la cosa che ha dato è una cosa il personaggio indelebile come lui come l'avvocato Enzo Berzò ma poi Alex perché lui viene adesso Mattarella andò a fare i miei figli ai caduti delle partugiali con pania bella e lui con l'anno è venuto in Friuli non in Friuli visto l'ufficiale ma è stato adesso e lui a terra a Rondi va anche di Puglia dove c'è il Sagrato dove ciò è venuto a due di vita di guerra per fare visto nel frattempo io mi stavo allenando al vecchio Friuli a Muretti ed entra dentro poi diventa una macchina dei carabinieri tutti quanti devono sta macchina dei carabinieri c'è la Ferrari nella torre allora scende il comandante capitano e gli dice abbiamo bisogno di di cavolo e il sogno dice guarda che è successo qualcosa ci sono i carabinieri che ti vogliono guardare io vado a capire come è successo dice no deve fare la doccia immediatamente perché c'è una persona che la sta aspettando come è successo qualcosa a casa mi dica la verità dice no no vado a fare la doccia poi le dico poi faccio la doccia ma che succede dobbiamo portarla subito al palazzo della regione dice la provincia qui in Friuli perché ha un po' di perché arriva il presidente ma il presidente il Bertini ha chiesto solo di lei e si perché ha fatto una visita e dice vuole parlare solo con lei sta chiedendo al presidente della regione il presidente ma dove è il caos ma dove è il caos è qui si è venuto a farli prendere dai carabinieri dalla mattina praticamente si arriva a pranzo una sera fino a quando poi non è andato a prendere a ronchi di Roma di volo per tornare a Roma ecco a girare per le strade di Udine con lui ma poi non è che parlava non mi ne fregava niente degli altri parlavamo di che cosa era partita da scompa ma ti vinci da un reto 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 però a prescita sei parlavi di che del 3 a 1 di riposo quando non c'è è tutto utile passeggiare al ristorante uscire fuori con la sua bibetta con il suo grappino che va alla fine però è un fai anche lui uno di noi ebbè se direi di lui uno di noi però riva e franzo